buongiorno a tutti e ben ritrovati oggi andiamo a vedere a grandi linee in modo generale ovviamente in che cosa consiste un fotocopiatore o altrimenti detto anche optoid isolatore riferendosi al fatto di che cos'è che accoppia e che cos'è che invece isola ma prima di questo vi ricordo se avete piacere l'iscrizione al canale cliccando sul tasto iscriviti e il clic sulla campanellina che attivi le notifiche del canale e ogni giorno pubblico un nuovo video bene ritorniamo il nostro fotocopiatore o optoisolatore allora innanzitutto come è costituito allora è costituito da una parte che è il led e che abbiamo già visto quindi un diodo in grado di emettere radiazioni luminose e dall'altra parte diciamo quello che va a ricevere la radiazione luminosa è un transistor che praticamente riceve in base questa radiazione e quindi manda in conduzione in modo da avere una corrente di collettore che poi diventa praticamente l'uscita quindi va a alimentare il carico sull'uscita e questo che ho riquadrato in azzurro è perché è costruito inglobato in un integrato quindi comunque è assolutamente creato proprio insieme quindi vengono creati contemporaneamente il discorso del led e del transistor e diciamo quello che c'è all'interno è un qualche cosa che l'isola quindi che però essendo trasparente permette lo scambio luminoso che è quello che vi ho appena indicato ecco qua quindi ho specificato allora qua abbiamo un fotodiodo che è un diodo led che emette radiazioni nell'infrarosso qua abbiamo il fototransistor e in mezzo quello che isola elettricamente è un dielettrico che è però trasparente il fatto che siano isolati elettricamente quindi è proprio il fatto che costituisce l'opto isolatore cioè in questo caso quello che è elettricamente isolato e questo consente di avere delle tensioni di isolamento molto elevate da qualche centinaia a qualche migliaia di volte quindi funziona in modo eccellente questo sempre quando io ho diciamo da una parte un circuito che lavora a bassa potenza e d'altra parte un circuito che lavora invece deve lavorare ad alta potenza quindi il fatto che da una parte quella ad alta potenza in qualche modo possa danneggiarsi e non funzionare bene non mi va a friggere quello che c'è di pilotaggio a bassa potenza ecco quindi c'è questo discorso qua quindi in automazione molto spesso vengono utilizzati anche col pilotaggio di plc ed altro e come funziona il tutto allora il diodo abbiamo detto emette delle radiazioni all'infrarosso ovviamente deve essere polarizzato direttamente quindi a monte ci sarà la sua resistenza di protezione il suo circuito e la tensione di ingresso viene quindi percorso da una corrente corrente abbiamo detto ovviamente in questo verso l'energia della radiazione che viene emessa praticamente va ad attivare la base del fototransistor e quindi crea una corrente di collettore che anche questo consente di avere una tensione di uscita che è proporzionale quindi la tensione che ho poi qua e che mi va a sia corrente e mi va a alimentare il mio carico è proporzionale a quella che è la corrente del diodo la cosa buona è che essendo creati praticamente insieme con le stesse caratteristiche sono poco sensibili alle variazioni di temperatura perché una variazione di uno si ripercuote in una variazione dell'altra un po' come se si compensassero e quindi funzionano molto molto bene su questo sul discorso appunto di piccole variazioni ed altro vantaggio grandissimo che hanno un tempo di commutazione estremamente veloci ed anche un funzionamento a frequenze un grosso range di frequenze abbiamo detto sono molto robusti hanno un'ottima capacità di isolamento o comunque di isolamento dal punto di vista elettrico ma di accoppiamento da quel di quello che ha poi la grandezza fisica e quindi in questo senso e sono molto robusti perché ovviamente abbiamo un discorso che si va a proteggere questo va a proteggere quello che ha il discorso di una cosa che c'è a monte una cosa che c'è a valle e ovviamente se è integrato ed essendo fatto di componenti come diodo e transistor ha un bassissimo consumo quindi questo diciamo sono le sue caratteristiche peculiari il trasferimento qui ho disegnato un possibile schema ce ne sono diversi quindi abbiamo un trasferimento dallo stadio 1 di segnale allo stadio 2 dove appunto abbiamo un fotocoppiatore questo viene detto isolamento galvanico quando si ha appunto un trasferimento di segnale senza la continuità elettrica questo ha il vantaggio anche di essere piuttosto immune al discorso dei disturbi e una cosa importantissima è che ci sono le due masse e le due alimentazioni separate quindi sia una separazione di masse di alimentazioni in modo che appunto non ci siano accoppiamenti indesiderati di tipo elettrico e che causerebbero punto disturbi e instabilità bene con questo diciamo spero che vi possa essere d'aiuto come piccola curiosità fatemelo sapere nei commenti e se avete piacere ci vediamo domani per un altro video